E' stato molto emozionante, quindi capisco e comprendo bene quello che Graziano ha voluto raccontare e trasmettere. Anch'io non voglio parlare di passato ma di futuro, perché comunque i ragazzi impegnati oggi a scuola e che vedremo impegnati anche nei prossimi anni, hanno comunque sempre bisogno di un supporto, di una spinta, hanno bisogno di dar loro una visione del futuro in crescita, non solo nel settore tessile, perché sappiamo che la scuola è alto, il preside avrà modo poi di illustrare quali sono gli obiettivi della scuola. Mi capita di partecipare a delle attività all'interno della scuola e con grande entusiasmo vedo che i ragazzi sono curiosi, sono curiosi di apprendere e di conoscere quello che può essere la svolta per il futuro. Tutte le attività che andremo a svolgere quest'anno, che verranno illustrate, serviranno anche per dare visione di quello che fanno i ragazzi e di quello che potrebbero sviluppare nel loro futuro. Grazie.